Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, tre chilometri di coda in direzione mare tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina, rallentamenti in direzione Firenze tra Montelupo e Ginestra, fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma, restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 ci sono 4 chilometri di coda per incidente in direzione Bologna tra Firenze e Scandicci e il Bivio per l'A11. Chiuso per lavori fino alle 18 il tratto sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!